Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. Cresce l'allarme sul vaccino antinfluenzale dopo le morti sospette ma dall'osservatorio epidemiologico regionale lanciano l'appello. Il vaccino può evitare conseguenze drammatiche nei soggetti a rischio. Alessandra Bucci Tra polemiche e psicosi il passo è breve. Cresce la paura sul vaccino antinfluenzale dopo i decessi sospetti che hanno determinato il ritiro cautelativo di alcuni lotti di Fluad. Una decisione precipitosa secondo la responsabile dell'osservatorio epidemiologico regionale Cinzia Germinario. L'AIFA è stata un po' precipitosa nel ritirare questi due lotti di vaccino. Ma l'allarme sta già producendo i suoi effetti. A due settimane dalla partenza della campagna antinfluenzale in pochissimi si sono sottoposti a vaccino. Per questo la commissione regionale riunita ieri ha deciso di prerogare fino al 31 dicembre la possibilità di vaccinarsi in vista del picco influenzale atteso per la seconda settimana di febbraio. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche con aumento esponenziale dei decessi. Ricordiamo che l'influenza uccide in media 8 milioni di italiani. Dobbiamo in pratica valutare, confidare nell'attività di convincimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel continuare questa campagna antinfluenzale perché tutti quei soggetti che in questa campagna salteranno la vaccinazione saranno i più deboli e più esposti e potremo registrare dei tassi di mortalità influenza correlati proprio perché non è stata effettuata la vaccinazione così come consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma il vaccino evita complicazioni che possono essere fatali per alcuni soggetti, soprattutto per le categorie a rischio. I bambini dai sei mesi in su con fattori di rischio, gli adulti con patologie, le donne gravide al secondo e terzo trimestre e gli ultra 65 anni con o senza patologie. Studenti baresi ancora in stato di agitazione continua la protesta contro i provvedimenti del governo Renzi. Altre quattro scuole sono state occupate dagli studenti a Bari per protestare contro l'applicazione del documento Buona Scuola. Ai ragazzi dei licei Socrate e Marco Polo che da ieri occupano gli istituti, oggi si sono aggiunti quelli del Marconi, Santarella, Bianchidottula e Delittis. I circa 80 alunni del Socrate e del Marco Polo hanno continuato l'occupazione dormendo raggomitolati in tutte calde. Chi ha potuto in sacchiappello impediscono a chiunque di entrare. Ed ora vi raccontiamo un curioso caso di cronaca. Due persone sono state arrestate perché rubavano vestiti dai cassonetti. Un problema più volte sollevato da tanti cittadini. Silvia Di Pinto. La re furtiva, 18 giubbotti, 16 magli e 28 pantaloni, 4 borse, 6 giacche e 16 paia di scarpe rubati non da una boutique ma dai cassonetti. Il curioso furto a cellammare. Due coniugi, rumeni domiciliati a Bari, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre rovistavano in uno dei bidoni destinati alla raccolta degli indumenti usati. L'uomo prelevava gli abiti dal cassonetto e li consegnava alla moglie che li depositava in macchina. Nell'autovettura, però, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio deposito ambulante. I due sono stati arrestati e accusati di furto aggravato. La questione dei tanti, bisognosi o furbi, a seconda dei casi, che rovistano nei cassonetti, c'è stata più volte segnalata dai cittadini anche nella trasmissione SOS Telebari. Spesso gli abiti rubati finiscono sulle bancarelle dei mercatini abusivi. Solo ieri l'ultima denuncia in trasmissione al presidente dell'Ameo Gianfranco Grandagliano che ha annunciato di studiare insieme al sindaco la possibilità di emanare un'ordinanza ad hoc. Vediamo se riusciamo come deterrente, se possiamo configurare delle leggi di penali in modo tale da cercare di contrastare questo fenomeno che purtroppo è un fenomeno comune anche in altre città. Non lo guarda solo bene. E torniamo a parlare di edilizia giudiziaria. Questa mattina un incontro in prefettura su richiesta del procuratore della Repubblica di Bari sulle condizioni di sicurezza del palazzo di giustizia di Via Nazariant. Il procuratore ancora una volta ha ricordato la necessità di interventi immediati per garantire l'incolumità del personale. Il prefetto ha assicurato il suo impegno a sottoporre al vaglio della commissione di manutenzione le ipotesi che il comune di Bari sta già elaborando. Assemblea regionale del sindacato pensionati della CGL in vista della protesta di piazza del 12 dicembre per difendere i diritti di giovani e anziani in servizio. Una battaglia in difesa degli ultimi. La CGL scende in piazza per rivendicare i diritti della memoria ai pensionati e del futuro ai giovani. La rivendicazione parte da un fondamento della Repubblica il lavoro senza il quale non c'è vita dignitosa, non c'è cittadinanza. Il sindacato pensionati della CGL si batte non solo per difendere il reddito delle persone anziane ma anche dei lavoratori per sottrarle a ricatto della precarietà. Una battaglia che i pensionati conoscono bene come spiega Carla Cantone, segretaria generale del sindacato pensionati CGL nazionale. Queste sono persone anziane che nella seconda metà del Novecento hanno conquistato diritti al lavoro. Oggi noi vorremmo continuare a combattere per far sì che i giovani abbiano lavoro e diritti. Le richieste del sindacato investono tutti i temi su cui il Governo centrale dovrebbe impegnarsi per costruire il vero cambiamento e creare occupazione. Poi chiediamo di investire in welfare, in sanità, via i ticket, via le lunghe liste d'attesa e investire nell'assistenza, nella scuola e nell'ambiente. Due giorni di riflessioni, provocazioni, scoperte sulle opportunità di sviluppo che il sistema territoriale delle imprese nei diversi segmenti di mercato può generare anche con il supporto delle nuove imprese creative. Comune denominatore è il coraggio di fare impresa, ieri come oggi. Alvia oggi la due giorni di economi, la parola all'impresa che Union Camere Puglia ha organizzato la Fiera del Levante. Obiettivo, costituire un primo momento fondativo di un'officina al laboratorio che nel tempo si organizzi come sede permanente dell'incontro fra imprese e cambiamento fra economia reale e start-up. Bilancio positivo per aeroporti di Puglia per inizio autunno. Nel mese di novembre, passeggeri in forte aumento. Più 11,7% su Bari, più 8,8% su Brindisi. Più di 424.000 i passeggeri transitati tra i due scali a fronte dei 383.000 del 2013 con un incremento del 10,7%. In crescita del 7% anche il numero dei voli, arrivi e partenze passati dai 3.382 di novembre 2013 ai 3.618 del mese appena trascorso. Tra le percentuali di incremento spicca quella riferita al traffico charter cresciuto del 27,6% mentre il traffico di linea si attesta ad un più 3,6%. Una birra fruttata, come pare sia la manna di San Nicola. Meno di 100 bottiglie in formato magnum per un'edizione limitata ma anche 2.000 da vendere al grande pubblico. La speciale birra è stata presentata oggi. Vediamo. San Nicola, il protettore dei marinai ma anche dei distillatori e dei mastri birrai, nasce sotto una buona stella, la nuova birra che dal Santo di Mira prende il nome ma anche pare il sapore un po' fruttato della manna. A benedirla oggi è il brindisi tra i produttori del birrificio Barbarossa, il sindaco e i frati domenicani della Basilica di San Nicola. Ce n'è per tutti i gusti, lager Bohemian Peelze e lager Red. E per tutti i portafogli, accessibile le bottiglie che circoleranno nei pub baresi e nello store dedicato a Bari Vecchia in strada San Luca. Una chicca all'edizione limitata, 99 bottiglie in formato magnum da un litro e mezzo con l'etichetta dipinta a mano con tecnica mista a foglia in oro zecchino. Le prime tre sono state donate a Comune, Basilica e Museo Nicolaiano. La birra di San Nicola è una riuscita operazione di marketing territoriale, spiega Mimmo Loiacono, cofondatore del birrificio, ma ha anche un modo per raccontare le storie e i sapori della nostra terra. La birra è una Bohemian Pilsner che è stata realizzata attraverso la tecnica del dry hopping perché, ispirandoci sempre alla manna di San Nicola, dato che la leggenda vuole che fosse particolarmente profumata, abbiamo utilizzato questa tecnica per poter esaltare il bouquet fruttato della birra e poter regalare delle sensazioni particolarmente fruttate. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo nuvoloso e precipitazioni, temperature comprese tra 12 e 19 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi www.telebari.it, radiobari.net e infochiocciolelsegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Più tardi con l'informazione di Telebari. www.telebari.it, radiobari.net e info. Grazie a tutti